Buongiorno, benvenuti al Focus Tg, siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto, tantissime le notizie dalla nostra regione, la cronaca come sempre in apertura di telegiornale con tutte le ultime novità in arrivo dalle nostre redazioni, è un periodo in cui la siccità e gli incendi stanno causando problemi davvero molto importanti in tutto il Veneto, continuano ogni giorno ad arrivare notizie di altri roghi in quasi tutte le province, poi c'è da dire ovviamente che la situazione della siccità è devastante, si parla addirittura, ed è una notizia di poche ore fa, della possibilità di chiudere anticipatamente la stagione dell'alpeggio per alcuni comprensori con le malghe che potrebbero chiudere in anticipo perché l'erba ormai è secca, le pozze sono asciutte, i pozzi si sono seccati, quindi portare acqua e fieno, foraggio in altura per le mandrie diventa antieconomico e la situazione potrebbe precipitare da un giorno all'altro, è già precipitata invece la situazione politica, questo lo sappiamo già, fissata la data delle elezioni, scioglimento delle camere, tantissime voci che sentiremo poi nel corso del nostro telegiornale, le voci della politica, le voci dei cittadini, le voci dei settori che con la politica devono confrontarsi come quello dell'imprenditoria per programmare un periodo che doveva essere quello della ripartenza invece fra la guerra e la crisi di governo e la pandemia che comunque c'è ancora perché i dati poi li vedremo assieme, continuano a dare qualche grattacapo al chi organizza la sanità in Veneto, insomma una situazione non certo semplice. Comunque diamo inizio al nostro telegiornale, partiamo come dicevamo dalla cronaca, raffica di incendi nella notte nel veneziano. Vigili del fuoco impegnati nella notte appena trascorsa per domare i roghi sviluppatisi in provincia, intervenuti a Marghera, in via Luigi Carrer per l'incendio, vegetazione e baracche nei pressi di un'abitazione disabitata, disposta su dei piani e spesso utilizzata da abusivi come ricovero con tre auto all'interno, nessuna persona è rimasta ferita, i pompieri arrivati da mestri con due autopompe, due autobotti, l'autoscale e 16 operatori sono riusciti a contenere e spegnere le fiamme. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate alle 3.30 del mattino sul posto, la polizia di stato, la locale e la polfer per la vicinanza della linea ferroviaria. Alle 4.30 nuova chiamata per un nuovo focolaio sempre nello stesso posto ma in un punto diverso dai precedenti. Operazioni di spegnimento finite alle 7 del mattino. Tra le cause non si esclude il dolo e ora il vaglio dei vigili del fuoco e della polizia di stato. Altri incendio sempre nella notte in località Confin a Torre di Mosto dove sono stati coinvolti quattro mezzi pesanti adibiti al trasporto di pollame, i camion parcheggiati all'interno di un'azienda di lavorazione carni avicole con i pompieri arrivati da Portogruaro, San Zonà, Mestre e i volontari di Caorle con tre autopompe, due autobotti, il carro schiuma e 18 operatori. Sono riusciti a circoscrivere le fiamme evitando un incendio generalizzato dei dieci mezzi parcheggiati nel cortile. Bruciati tre mezzi pesanti di cui uno carico e uno danneggiato. Le cause di probabile natura elettrica al vaglio dei tecnici, dei vigili del fuoco. Arriva proprio ora in redazione una nota dell'ANSA nazionale ovviamente in cui si dice che nel 2021 l'Italia è stato il paese con più incendi a livello europeo, ben 1422. Il secondo paese al mondo per numero di incendi registrati, un dato davvero incredibile, lo apprendiamo ora da questo lancio di agenzia. 1422 per un totale di 160 mila etteri di superficie bruciati. Si tratta del numero più alto registrato nell'ultimo decennio. Ci si aspettano dati peggiori anche per quest'anno. Quest'ultima frase la dice una ricercatrice dell'Università Cattolica di Roma illustrando un dossier sul cambiamento climatico in Italia. Quindi una situazione nazionale davvero pessima e il Veneto sembra non essere da meno. Abbiamo un'altra notizia di incendi, questa volta ci arrivano dalla provincia di Padova due interventi di vigili del fuoco. Il primo nel pomeriggio di ieri in via Mandolari a Este dove ha preso fuoco una legnaia che ha coinvolto poi anche un pezzo, un appezzamento agricolo. Nessuno è rimasto ferito. I pompieri hanno circoscritto le fiamme evitando che si propagassero anche a una vicina abitazione. Queste immagini invece che vedete ora riguardano un furgone che ha preso fuoco con una piccola ruspa nel cassone a Monselice. Pare che le cause del rogo siano di origine elettromeccanica. Il conducente del veicolo ha avuto un malore probabilmente a causa dello shock, della paura che l'ha colpito durante questo incendio. La regione dichiara lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Viste le condizioni meteo, climatiche e vegetazionali, la protezione civile del Veneto dichiara lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per i territori comunali a rischio nelle province di Belluno e Vicenza, sia in montagna che alla base delle alture. Fino alla comunicazione di Revoca sono pertanto vietate tutte le operazioni che possono creare pericolo o possibilità di incendio in aree boschive, cespugliate o arborate o comunque entro la distanza di 100 metri da questi terreni. Quindi indispensabile prestare la massima attenzione sia in montagna che pianura in questo periodo. Anche qui nella Pedemontana abbiamo dato notizia nei giorni scorsi di altri roghi che hanno colpito zone di campagna, c'è stato un piccolo incendio anche a mezza selva di Roana giusto l'altro ieri, quindi situazioni davvero complicate. Andiamo avanti, mettiamo da parte per un attimo la situazione degli incendi, vediamo un blitz interforze nel Vicentino, cosa ha portato? Blitz interforze all'interno dei capannoni abbandonati a partire da quello in via Genova, più volte segnalato dai cittadini come covo e ritrovo disbandati. Nessuno è stato sorpreso all'interno anche se sono state rilevate tracce di presenze non autorizzate di bivacchi, ma i controlli sono stati estesi anche ad altre aree urbane, spesso teatro di episodi criminali o segnalati per degrado urbano sia nel centro storico sia in periferia, in particolare le zone dei giardini pubblici di via Bachelet, Campo Marzo, il quadrilatero, via Tornieri, zona San Pio X, viale Santi Felice Fortunato, anche con diversi posti di blocco nelle principali arterie cittadine, raffica di provvedimenti emessi dal questore Paolo Sartori, sette avvisi orali, otto fogli di via e cinque ordini di allontanamento dal territorio nazionale. Ci spostiamo ora sempre nella pagina della cronaca nella provincia di Venezia, maxi sequestro di droga da un milione di euro, in manetta una coppia. Cocaina, Aschis e marijuana. Maxi sequestro da parte della Guardia di Finanza di Venezia che poi ha arrestato una coppia di albanesi domiciliati a Mestre. Durante un controllo specifico contro lo spaccio i finanzieri hanno fermato un'auto che alla loro vista ha tentato di invertire il senso di marcia senza riuscirci. All'interno c'era la coppia. I due sono apparsi nervosi ed evasivi alle domande dei finanzieri e accompagnati al vicino domicilio per una più accurata ispezione del veicolo hanno individuato un'altra auto parcheggiata nel cortile. Nel bagagliaio c'erano vari panetti di Aschis per un totale di circa 20 chili. Nel frattempo l'uomo ha tentato di scappare ma è stato bloccato. Con il successivo intervento di un'unità cinofila l'ispezione è proseguita anche all'interno dell'abitazione dove le fiamme gialle hanno trovato 300 grammi di cocaina nascosti nel condotto di evacuazione dei fumi e documentazione relativa alla compravendita di stupefacente e materiale per il confezionamento della droga. Sono state trovate anche le chiavi di un altro immobile a qualche chilometro di distanza adibito a deposito di stupefacenti. C'erano oltre 3 chili di cocaina occultati in un armadio, 18 sacchi con 20 chili di marijuana e 27 chili di Aschis suddivisi in 55 panetti. La droga probabilmente era destinata a rifornire le principali piazze di spaccio durante la stagione estiva e avrebbe fruttato sul mercato un profitto stimato in oltre un milione di euro. Sequestro ma di altra natura e per altra origine per il crack compiano. Vediamo. La Guardia di Finanza di Treviso ha dato esecuzione a una sentenza della Corte di Appello di Venezia a seguito del rigetto di un ricorso per Cassazione. Nel procedimento si dispone la confisca di beni per un valore di più di un milione e duecentomila euro. Sentenza ormai irrevocabile per l'importo pari all'IVA e VASA da Luigi Compiano, ex imprenditore trevigiano rappresentante legale di due aziende, operanti nel settore della vigilanza privata. L'uomo, al centro di una nota indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Treviso nei primi anni dello scorso decennio, si è visto sequestrare anche la villa di 800 metri quadrati composta da 30 vani, oltre che da un attiguo parco secolare. L'immobile diventerà ora proprietà dello Stato. I finanzieri avevano tra l'altro accertato che l'uomo aveva sistematicamente omesso il versamento dell'IVA dal 2010 al 2012. Ora noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus Tg, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Andiamo avanti con la pagina della cronaca, andiamo a Cartigliano nel Bassanese, dove sono arrivate delle scritte razziste allo stadio, le cancellano i giovani del paese. L'educazione cancella l'inciviltà, è proprio il caso di dirlo. Nello stadio del Fair Play a Cartigliano vincono il senso civico e la buona volontà dei ragazzi di Ci sto a fare fatica, che stanno cancellando le scritte razziste con cui qualche giorno fa è stato imbrattato l'impianto sportivo. Lo scopo del progetto Ci sto a fare fatica è proprio quello che i ragazzi facciano delle esperienze di cittadinanza attiva, che si prendano cura del loro territorio, dei beni comuni e che valorizzino tutte quelle che sono le risorse del proprio territorio. È bello vedere i ragazzi che si stanno prendendo cura del proprio paese e che purtroppo riparano tutti quelli che sono atti vandalici, forse fatti da loro coetanei o comunque da persone adulte. Questo è importante perché sensibilizziamo sempre di più i ragazzi verso un senso civico importante. Comune, giovani e società sportiva hanno fatto squadra e vinto la partita. Torniamo alla cronaca, andiamo nel Padovano dove un pensionato è stato picchiato dalla moglie. Picchiato dalla moglie più giovane di lui di 46 anni, la vicenda per protagonista un 81enne padovano che aveva sposato una 35enne nigeriana, ex prostituta di cui era cliente abituale. La storia d'amore tra i due però non ha avuto un lieto fine. La donna infatti dopo le nozze ha iniziato a prenderlo a botte, minacciarlo ed era violenta anche con il figlio piccolo che avevano avuto insieme che oggi ha 10 anni. Il pensionato a sporto denuncia e la donna ora è indagata per maltrattamenti e rischia di finire a processo. E a Costa Bissara nel Vicentino una donna molesta l'ex compagno e addirittura installa nella sua auto un GPS per poterlo seguire più da vicino. Aveva installato sulla vettura dell'ex compagno, a sua insaputa, un GPS per controllarne i movimenti e pedinarlo, poiché non accettava che l'uomo avesse interrotto la relazione affettiva. Questo solo il culmine di un escalation di minacce e di atteggiamenti petulanti cominciati a marzo a Salcedo, anche di notte, che sono diventati sempre più gravi. A seguito delle denunce sporte dall'uomo, dalle testimonianze raccolte sugli episodi di cui era rimasto vittima, è scattato così il divieto di avvicinamento per la quarantenne residente a Costa Bissara, accusata di atti persecutori nei confronti dell'ex. I carabinieri della stazione di Breganze, in collaborazione con i colleghi di Dueville, hanno dato esecuzione alla misura cautelare. Un'altra notizia di cronaca, ci arriva dai lanci di agenzia Barchino alla deriva a Venezia a ricerca di un possibile disperso. Dalle prime ore di stamani, si legge in questo dispazio dell'Ansa, i sommozzatori di Vigilio del Fuoco, la Capitaneria di Porto e i carabinieri di Venezia stanno cercando una persona di mezza età che potrebbe essere dispersa in laguna. L'allarme è stato lanciato a seguito del ritrovamento di un barchino alla deriva nei pressi della Celestia. Al cui interno sono state rivenute delle canne da pesca. Non è concluso che il natante fosse stato male ormeggiato, ma del proprietario per il momento non si hanno notizia. Ovviamente ci occuperemo anche di questa vicenda. Se arriveranno novità ve le daremo in diretta qui al Focus TG. Ma torniamo alla cronaca. Banda del buco in azione nel Trevigiano. Vediamo. A colpi di martello si sono ricavati un passaggio dal bagno all'ufficio e qui hanno svaliggiato la cassa fuggendo con un bottino di 5.000 euro. Nel mirino dell'ennesima banda del buco il distributore Piggy di Morgano, di proprietà del vice sindaco Alberto Rossetto. I filmati delle telecamere di videosorveglianza, ora al vaglio dei carabinieri, mostrano i due malviventi in azione. Volto coperto dal passamontagna hanno agito indisturbati abbattendo una porzione di muro e sgattaiolando nell'ufficio con il denaro, comprese le mance dei collaboratori del titolare che si occupano dell'autolavaggio. Non è escluso che avessero compiuto, magari come clienti, dei sopralluoghi prima di entrare in azione, visto che si sono mossi in modo da evitare anche i sensori dell'allarme. Nessuno si è accorto di nulla e il furto, insieme al grave danno, è stato scoperto solo ieri mattina. Probabilmente non un colpo isolato quello dei due, visto che in zona ci sono stati anche altri furti, riusciti e non. Torniamo nel Vicentino per un blitz dei carabinieri per il controllo sullo spazio di sostanze stupefacenti. Trovato con 12 piantine di cannabis, alte fino a 1,70 m, è in possesso di marijuana. È stato arrestato. Si tratta di un 33enne residente a Barbarano Mossano, gravato da precedenti. Arrestato dai carabinieri della locale stazione, in flagranza del reato per coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Le piante e la sostanza stupefacente sono state trovate durante una perquisizione nei capannoni dell'azienda agricola, nel garage pertinente all'abitazione e in un appezzamento di terreno di proprietà. E a Padova un detenuto ha aggredito gli agenti dopo un'operazione? Ha aggredito gli agenti della polizia penitenziaria che lo dovevano riportare in cella dopo l'intervento in ospedale dove era stato ricoverato d'urgenza per aver ingerito pile e lamette. Durante il ritorno in carcere un detenuto tunisino del Due Palazzi ha aggredito i poliziotti e danneggiato il furgone blindato, ha detto ai trasporti. Il sindacato della polizia penitenziaria ha denunciato l'ennesimo episodio di violenza nei confronti degli agenti. Il detenuto aveva ingerito di proposito pile e lamette per farsi portare in ospedale un gesto già compiuto altre volte nei mesi scorsi. Al momento di rientrare in cella dopo l'operazione ha prima danneggiato il furgone, poi ha spintonato gli agenti e una volta in carcere ha lanciato un carrello contro due di loro ferendoli. Un episodio di violenza che arriva a pochi giorni anche dalla notizia che a causare la morte di un detenuto nordafricano lo scorso 15 giugno è stata un'overdose da sostanze stupefacenti. Il sindacato di polizia penitenziaria ha ribadito la gravità del fatto di come la droga riesca a circolare facilmente in carcere. Chiudiamo questa pagina della cronaca, diamo un'occhiata che non ci siano altre notizie di cronaca dal Veneto in questo momento, non arrivano novità dall'Ansa, quindi chiudiamo la pagina della cronaca con una vicenda a lieto fine che ha ribadito un aschi. Troppa curiosità può essere pericolosa, lo sa bene Maia un cucciolo di aschi di sei mesi che ad Albignasego è rimasta bloccata con la testa in un foro di aereazione di un muro all'interno di un'abitazione e fortunatamente è stata salvata dai vigili del fuoco. La cagnolina, incuriosita da qualcosa, è riuscita ad infilare la testa nel piccolo buco attraversando tutta la parete per poi rimanere bloccata nello stretto pertugio. I pompieri, dopo un primo tentativo di sfilare l'animale, hanno scelto di allargare il buco e di estrarre in sicurezza Maia che iniziava ad essere in affanno. L'aschi, dopo essere stata liberata senza ferite, ha cercato un po' di refrigerio davanti ad un ventilatore. Chiudiamo questo capitolo, chiudiamo questa pagina, pronti a riaprirla ovviamente se arriveranno notizie dalle nostre redazioni. Apriamo invece la pagina dedicata all'ondata di caldo che sta rendendo questa estate davvero difficile e drammatica per tutti quanti. L'apriamo con i dati ufficiali che ci arrivano dall'ARPAV che possiamo vedere grazie alla regia di Renzo Rigon. Nella pagina ARPAV c'è proprio il sito dell'Agenzia regionale per l'ambiente che ci mostra i dati ufficiali degli scorsi giorni. Allora vediamo se riusciamo a farvi vedere un po' meglio. 38 gradi ufficiali ieri a Galzignano. Ovviamente zona cademia sappiamo che per chi si interessa un po' del meteo quotidiano è un'area in cui spesso si registrano temperature molto alte e temperature anche relativamente basse di notte con più di 20 gradi di differenza. Poi però questi 38 gradi diciamo che vanno messi in relazione con la temperatura percepita quindi con l'umidità altissima che soprattutto nella pianura veneta porta la percepita a oltre 40 gradi quindi ovviamente tutti i consigli da parte della sanità e delle autorità sono quelli di non uscire nelle loro più calde idratarsi il più possibile la massima attenzione per queste cose che conosciamo fin troppo bene. 15,7 gradi di minima in pianura a Roncade certo non sono messe le minime montane dove le temperature possono scendere anche molto più in basso il vento 28 km all'ora ma vabbè poco poco importa e soprattutto importa il fatto che la precipitazione è assente quindi 0 mm di pioggia per l'ennesimo giorno di fila in tutto il Veneto adesso andiamo avanti con il Tg ma fra poco torneremo a vedere gli altri dati dell'Arpav giusto per farvi capire le temperature di oggi. vediamo il servizio della nostra redattore padovana sul caldo record e sul fine settimana rovente che ci aspetta. Quello in arrivo sarà un fine settimana rovente le temperature ancora in salita potrebbero sfiorare i 40 gradi ma percepiti potrebbero essere anche di più specie in città Padova e provincia stanno registrando un caldo record anche se i livelli non sono comunque quelli registrati nell'estate roventi del 2003 la protezione civile del Veneto nei giorni scorsi ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico secondo le previsioni di Arpav a Padova l'apice del caldo è atteso proprio per il fine settimana per le piogge invece bisognerà ancora attendere qualche giorno intorno a metà della prossima settimana è tesa aria più fresca da nord e potrebbero quindi arrivare anche le piogge verso martedì o mercoledì nel frattempo i consigli per fronteggiare questi giorni roventi sono quelli tradizionali evitare di uscire nelle ore più calde, bere molto e mangiare frutta e verdura fresca indossare abiti con tessuti leggeri che lasciano respirare la pelle come vi avevamo detto pochi minuti fa siamo andati a vedere i dati ufficiali dell'Arpav per quanto riguarda la mattinata odierna sono temperature aggiornate alle 11 di oggi e ci dicono che la giornata è già compromessa da questo punto di vista perché i 34 gradi sono stati ispirati in molte zone nel veronese vediamo l'Asia ancora 35 gradi e 4 già a Brendola nel Vicentino 35,9 gradi ovvero 36 gradi a isola Vicentina 36 gradi già sforati a Teolo ai piedi dei Colli Uganei 35,3 a Treviso vediamo il litorale è un po' mitigato da quelli che possono essere le correnti le correnti d'aria che arrivano dal mare la provincia di Rovigo è ferma attorno ai 34 gradi la montagna Vicentina non se la cava benissimo con 30 gradi già a Lusiana per esempio 29 gradi ad Asiago figuratevi in montagna alla quota di 1000 metri ci sono già 30 gradi alle 11 di mattina non osiamo pensare come andrà nel pomeriggio vedete tutta l'area del basso bellunese poi per vedere qualcosa di più accettabile bisogna andare in montagna ma neanche tanto perché per esempio a Dobronze ci sono già 29 gradi queste sono temperature registrate alle 11 di questa mattina fra poco arriveranno quelle di mezzogiorno magari le vediamo nel corso della nostra informazione ma avevano detto che oggi sarebbe stato il giorno più caldo dell'anno e si vede già che la previsione verrà confermata in arrivo altre infornate di caldo nei prossimi giorni alcuni meteorologi parlano di un cambio deciso già dalla prossima settimana con un agosto un po' diverso con un po' di pioggia ma ovviamente è troppo presto per parlarne basterebbero due gocce per diminuire la temperatura ovviamente due gocce per la situazione della siccità non fanno nulla subito dopo la pubblicità vediamo un allarme lanciato dalle associazioni di categoria da chi fa alpeggio, da chi lavora in montagna perché c'è una situazione talmente grave della siccità che il rischio è quello di dover chiudere le maghe chiudere gli alpeggi anzitempo rispetto alla chiusura della stagione che lo sappiamo è fissata a settembre per San Matteo ma questo lo vediamo dopo la pubblicità state con noi, torniamo fra pochissimo Buongiorno, bentornati al Focus TG siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto in Veneto c'è una situazione drammatica per quanto riguarda la siccità una situazione che non riguarda solo la pianura dove lo sappiamo il cuneo salino sta creando parecchi problemi all'agricoltura delle zone più vicine al mare con i fiumi che non avendo portata ricevono acqua salata con tutte le conseguenze del caso fiumi all'asciutto, pozzi all'asciutto agricoltura in crisi anche la montagna sta soffrendo perché l'erba degli alpeggi è davvero ormai secca ci dicono le persone che lavorano in montagna che di solito questo colore si vede negli alpeggi verso settembre quando ormai la stagione è finita siamo a due mesi dalla fine della stagione alpeggio che ricordiamo l'anno scorso è durata addirittura fino a ottobre in certe zone perché era un'estate particolarmente bella sotto questo profilo non c'è più quasi niente da mangiare per il bestiame le pozze si stanno esaurendo stanno diventando dei pantani portare in alpeggio acqua e foraggio costa tantissimo il rischio secondo col diretti secondo la situazione di categoria è che si possa arrivare a una chiusura anticipata della stagione vediamo se la pianura piange lacrime bollenti e salate a causa della siccità e del caldo la montagna non ride di certo è ormai gravissima l'emergenza dovuta all'assenza di precipitazioni anche nelle malghe e nelle zone in cui è viva la tradizione dell'alpeggio i pascoli infatti sono sempre più secchi e le pozze per abbeverare gli animali si stanno trasformando in pantani inutilizzabili lo conferma anche col diretti che sta portando avanti un monitoraggio nelle zone di montagna in cui sono attive malghe e allevamenti d'altura l'assenza di erba fresca costringe vacche, capre e pecore a spostarsi all'interno dei boschi e a cercare nutrimento durante le ore notturne quando il controllo da parte degli allevatori è molto difficile molte fonti sull'altopiano dei sette comuni si sono seccate e gli anziani del territorio raccontano che una situazione simile non si vedeva da almeno 60 anni in molti casi è stata attivata una fornitura d'acqua d'emergenza per dissetare gli animali e per fornire sostentamento alle casere e alle strutture che operano anche nelle aree più remote del comprensorio il rischio è di un ritorno a valle forzato e anticipato di diverse settimane dato che i costi per il trasporto di acqua e fieno necessario per sfammare le mandre e le greggi sono spesso insostenibili in alcune aree addirittura si sta procedendo con uno sfalcio anticipato per salvare quel che si può salvare e per raccogliere almeno il 40% del foraggio il domino che si è messo in moto potrebbe rivelarsi devastante per il turismo e per la produzione delle meraviglie casearie per i salumi per la filiera dell'agroalimentare di un territorio d'eccellenza torniamo in pianura parlando sempre di siccità perché lo sappiamo la gran parte del Veneto centrale quello che fa riferimento al Brenta guarda sempre con grande attenzione al bacino del Corlo le autorità chi si occupa di bonifica chiede la creazione di altri invasi se piove domani e piove tanto noi di quello che abbiamo passato in questi mesi ce ne dimentichiamo dopo domani e questo è quello che succede nella realizzazione delle grandi opere esempio tra tutti l'opera del bacino Vanoi una diga con capienza da 40 milioni cubi di acqua che andrebbe ubicata nel bacino montano del Brenta prevista ormai da tantissimi anni ma che non ha mai trovato il via una diga che mai come oggi sarebbe fondamentale per la gestione della siccità quando ci sono degli allargamenti bisogna che siano continui magari che ci scappi il moto per ritrovare la soluzione nei momenti della siccità si dimentica subito e poi non si fa carico di portare a termine i progetti che si hanno pensato e che servono proprio per prevenire sia quando ce n'è acqua in eccesso sia quando manca in questo momento ed è per quello che non si è mai andato da nessuna parte anche perché non c'è una volontà politica oppure il problema non tiene la politica concentrata sulle problematiche e forse questa situazione ormai drammatica potrebbe essere la spinta per un nuovo inizio è un appello che noi facciamo lo facciamo da anni ma penso che questo sia il momento giusto per raggruppare tutte le energie e puntare il diritto alla meta risolvere i problemi una volta per tutti da una parte all'altra del Brenta qui parlavamo della sezione quella che esce dalla spaccatura fra l'altopiano e il grappa e scende verso la pianura alla parte di questo grande fiume più vicina al mare però con problemi altrettanto gravi il fiume Brenta è in gravissima sofferenza mira il primo cittadino al momento l'unico in tutta la riviera del Brenta corre ai ripari ed emana un'ordinanza contro gli sprechi idrici e spegne la fontana come gesto dimostrativo lungo il naviglio del Brenta non c'è più acqua manca l'acqua anche per l'irrigazione e si corre ai ripari alzando le chiuse questo è il quinto anno che faccio il sindaco non ho mai visto una situazione del genere le ordinanze della regione che di fatto impediscono o rallentano di molto la navigazione del Brenta sono una cosa mai vista per motivi idrici questo ci dà da capire la reale situazione la reale gravità è una situazione grave i cittadini ne sono consapevoli ed è allarme sia tra gli agricoltori sia tra le compagnie turistiche di navigazione il livello del Brenta è sceso di oltre due metri rispetto alla soglia abituale il fiume che laddove non è in secca risulta colmo di piante infestanti altra conseguenza le imbarcazioni normalmente in questo periodo dedicate al turismo risultano come vediamo dalle immagini ferme non è da oggi che il problema siccità sta mettendo in ginocchio le imprese e le associazioni legate al comparto turistico del Brenta aggiunge il primo cittadino di Mira per noi insomma per la riviera del Brenta il turismo tipico è proprio quello delle crociere fluviali questi operatori che sono già stati colpiti in maniera forte dal covid adesso vengono ulteriormente penalizzati da questo tipo di situazione lungo il naviglio da Dolo a Mira urgono lavori disattesi da quasi mezzo secolo conclude Dori io l'ho sempre detto bisogna prendere questo problema mettersi lì attorno a un tavolo programmare gli interventi perché l'escavo del canale è una cosa che viene chiesta tantissimo tempo e purtroppo non è stata fatta e adesso se ne pagano anche in quota parte queste conseguenze Allora fra pochissimo dovremo riuscire a essere in collegamento con la nostra redazione padovana per parlare di un tema legato al caldo di questo periodo intanto vediamo i dati ufficiali dell'ARPAV di ieri che sono già arrivati nel sito dell'Agenzia regionale per l'ambiente sono piuttosto interessanti perché ci fanno vedere dovreste riuscire a vederli anche voi nel vostro televisore una situazione piuttosto complicata in tutta la regione con punte di 37 gradi e mezzo 38 gradi 36 gradi diciamo che in quasi tutto il Veneto si è arrivati tranquillamente sopra i 36 gradi con punte di 37 38 in altre zone dove è andata bene si è rimasti attorno ai 34-35 gradi che insomma non è proprio un granché chiedo alla regia se possiamo andare da Valentina Visentin a Padova sì andiamo da Valentina buongiorno Valentina buongiorno Ferdinando io sono all'interno della sede della comunità di Sant'Egidio per parlare di una categoria quella degli anziani che sta soffrendo particolarmente questo periodo di caldo record intanto con Alessandra Coin facciamo un appello proprio per monitorare la situazione soprattutto un appello che non riguarda solo gli anziani ma anche chi li vede magari perché ne ha uno come vicino di casa certo stiamo vivendo un'ondata di calore straordinaria ricorda quell'estate del 2003 in cui purtroppo morirono numerosi anziani e fu da allora che Sant'Egidio attivò il programma Soli sì, Soli no un programma di monitoraggio, di attenzione ma anche di coinvolgimento degli anziani in una serie di attività estive e di consigli per contrastare il caldo che va anche nella direzione di spezzare l'isolamento sociale che spesso è complice del caldo delle sofferenze, delle fatiche degli anziani allora l'appello che facciamo è questo lo facciamo alle istituzioni, alle associazioni ma anche ai cittadini di buona volontà ma anche ai negozianti, agli esercenti salutate gli anziani, visitateli e stiamo tutti attenti quando non vediamo un anziano aprire la finestra o non lo vediamo raggiungere i nostri negozi i nostri servizi, facciamoci prossimi chiamiamolo, sentiamolo cerchiamo di fare in modo che la rete di prossimità non venga a mancare per nessuno degli anziani dei quartieri Viva gli anziani è il programma appunto di monitoraggio attivo quali sono alcune delle iniziative che mettete in campo in questo periodo? Ce ne parla Mirco Sosai sempre della comunità di Sant'Egidio Sì, Viva gli anziani è un programma che è stato lanciato a Padova l'anno scorso, è un programma di monitoraggio attivo della popolazione anziana ultraottantenne del quartiere del Portello ed è un progetto innovativo che noi speriamo possa essere anche di modello per altre iniziative in questo senso cioè quella di sentire tutti attraverso una telefonata, una visita è un modo appunto per non dimenticare nessuno e per verificare qual è la condizione di salute sociale degli anziani ed è un modo anche di prevenire situazioni di difficoltà di disagio, di isolamento al Portello questo ha già permesso in un anno di salvare la vita direi di diversi anziani di migliorare la qualità della vita questa vicinanza agli anziani a Padova, a Treviso, a Rovigo, a Conegliano in tutti i luoghi in cui la comunità di Sant'Egidio è presente significa anche però appunto qualche cosa di più, significa una presenza una vicinanza in attività di socialità di amicizia in questo periodo estivo o nelle ore della giornata che lo permettono in cui le temperature sono più fresche a Padova ad esempio in cinque quartieri della città sole sì, sole no appunto significa la sera il gelato sotto le stelle significa questo ritrovarsi giovani, anziani a cantare, ad ascoltare musica a vivere una socialità molto semplice concreta nel dialogo, nell'amicizia mangiando un gelato e questo è molto bello e significativo ecco Ferdinando queste sono alcune delle iniziative della comunità di Sant'Egidio per far fronte appunto a questo caldo torrido a Padova nel fine settimana sono previste temperature veramente roventi se non ci sono altre domande resituisco la linea allo studio grazie Valentina per questo importante collegamento una proposta decisamente interessante resta da capire se siamo pronti se il Veneto, se il tessuto sociale del Veneto è pronto per ritornare a questa socialità che diventa anche cura del prossimo sappiamo purtroppo dalla nostra cronaca che a volte ci troviamo di fronte ai cosiddetti drammi della solitudine con persone che non vengono viste per giorni e poi vengono trovate magari o senza vita o in grave difficoltà è una bella sfida per il futuro magari dopo che sarà finito tutto questo ricominciare con questo passo diverso adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria state con noi, torniamo fra pochissimo Buongiorno, bentornati al Focus Tg siamo in diretta anche oggi in Onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto siamo nella pagina dedicata alla grave situazione della seccità del meteo non piove ormai da troppo tempo la montagna abbiamo visto è in crisi la pianura altrettanto l'agricoltura non sa più da che parte girarsi per trovare approvvigionamenti idrici tanto che c'è chi come il Consorzio Bacchiglione lancia un allarme e è a rischio la produzione di radicchio se continua questa situazione meteo si rovinerà veramente tutto sarà impossibile il trapianto del radicchio che è iniziato due giorni fa e sarà impossibile irrigare perché acqua non ne abbiamo più l'unico goccio d'acqua che ci arriva ci arriva ancora dal lab tramite il Bacchiglione ma ora che arriva a Chioggia evapora perché non c'è più possibilità di trasportare l'acqua i fiumi sono sotto il livello massimo di guardia i nostri canali non ricevono più acqua non nasconde la preoccupazione il Presidente del Consorzio di Bonifica Bacchiglione il fiume è minimi storici non si riesce più a far defluire l'acqua dal ponte dei Cavai e i canali padovani sono destinati a trasformarsi in piccoli acquitrini ma non solo si teme anche per le sorti dell'agricoltura a rischio l'intera produzione di radicchio nella bassa padovana tutto il nostro compensorio mai è a rischio non abbiamo più forza non abbiamo più acqua che ci arriva dalla montagna il Brent è praticamente diventato un grande lago nel bacino di Stra e sta calando giorno per giorno non alimenta più il laviglio Brenta e conseguentemente il novissimo che arriva a Chioggia stessa cosa è dalla parte ovest dove i canali non arrivano più ad avere una portata tale da poter derivare acqua con i nostri impianti preoccupa anche la salubrità degli ambienti visti i recenti casi di West Nile nel territorio della bassa padovana l'acqua stagnante infatti provoca il proliferare delle zanzare io sono preoccupatissimo proprio per la West Nile l'avevo già evidenziato ancora ad aprile in una riunione che abbiamo fatto a Venezia cioè con poca acqua c'è la possibilità che ci formino acquiterini quindi gli uccelli vanno a mangiare lì e conseguentemente il contagio con gli insetti diventa facilissimo ecco quindi io veramente raccomando a tutti i cittadini che la sera si devono veramente qualcosa per ripararsi dalle zanzare il consiglio è quello di evitare di lasciare acqua nei sottovasi o stagnante e intervenire con trattamenti adulticidi e larvicidi nelle caditoie e nei tombini quindi le ripercussioni le ricadute di questa situazione della siccità non sono solo per l'economia sono anche per la salute pubblica e c'è anche un grosso problema di pesci morti nei corsi d'acqua del Veneto ecco i pesci raccolti in appena un'ora e mezza lungo il canale Santa Chiara 120 kg di carcasse di animali morti recuperati da uno dei canali cittadini gli uomini della cooperativa Piovego dopo giorni in cui hanno spostato pesci da canali in secca verso ambienti più idonei ora, anche dopo le nostre segnalazioni sono passati alla fase 2 dell'emergenza raccogliendo i pesci che non sono sopravvissuti bisogna farlo è complementare all'altra attività sempre nell'ottica di igiene pubblica è odio che poi è importante salvare degli animali vivi ma qua l'aspetto più importante è salvaguardare la salute pubblica che altrimenti sarebbe a rischio perché con la potrefazione delle carcasse ci sarebbero guai insomma, ratti proliferazione di ratti insomma, sarebbe guai nei canali cittadini però sono presenti anche alcuni scarichi non depurati i guai ci sono comunque perché i nostri canali non ricevono solo acqua pulita e si vede questo soprattutto quando in una situazione così estrema ricevono anche perché padrona città complessa degli scarichi non tutto è collettato e quindi questo è un problema che rimane i cadaveri cioè le carcasse possiamo eliminarle gli scarichi no l'emergenza legata ai cambiamenti climatici ha bisogno di soluzioni a più livelli cercarle su scala mondiale ma anche locale la necessità è che si aprano tavoli interregionali e nazionali per la gestione dell'acqua nell'immediato però bisogna agire per evitare che i canali restino senza acqua tuttavia una manovra di emergenza a mio avviso c'è esiste ed è quella di applicare delle pompe dell'idrovore carrellate alimentate a rasolio in bacchiglione a monte del ponte dei cavai per scaricare almeno qualche centinaio poche centinaia di litri al secondo in modo di evitare che il canale Santa Chiara il canale Alicono che scorre parallelo a noi 20 metri di fianco a questo rimangano in questa condizione facciamo un passo indietro ne abbiamo parlato solo qualche minuto fa con la nostra redazione Padovana la siccità la mancanza d'acqua causa la stagnazione la creazione di pozze in cui le zanzare proliferano c'è una situazione legata alla presenza del West Nile che va tenuta sotto controllo due nuovi casi di encefalite da West Nile nel Padovano si tratta di una donna di 66 anni ricoverata nel reparto di neurologia dell'ospedale di Piove di Sacco e un uomo di 49 anni ricoverato invece a schiavonia sempre nel reparto di neurologia entrambi questi due nuovi casi fa sapere l'usl sono residenti nella zona della bassa Padovana questi due nuovi casi fanno salire a sette in totale i casi di encefalite di cui due hanno portato al decesso mentre altri cinque sono al momento ricoverati scoperti altre due positività in soggetti che invece non sono ricoverati e stanno bene si tratta di persone completamente asintomatiche come i due donatori di sangue risultati positivi durante gli esami di routine per la donazione secondo il bollettino settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità che sorveglia l'andamento del virus da inizio giugno fino al 19 luglio 2022 in Italia sono stati confermati 15 casi di infezione da West Nile Virus nell'uomo quattro delle persone colpite sono decedute di cui due in Veneto una in Piemonte e una in Emilia Romagna la nostra regione dunque rimane la più colpita vediamo per questa notizia per queste importanti informazioni come sta andando nella marca trevigiana Noi due settimane fa eravamo già partiti con un secondo piano di adulticida appunto per prevenire il fenomeno è chiaro che questa emergenza ci porta a fare altre valutazioni continueremo con l'attuale piano ma ci confronteremo con l'USA se sono necessarie ulteriori o diverse azioni nel territorio se necessario quindi anche alla luce della nuova allerta per West Nile nella marca si procederà con nuove disinfestazioni per ora fanno fede le indicazioni di sempre sono i consigli classici noi diciamo anche che le pastiglie consegnate ai cittadini sono ancora valide possono essere ancora utilizzate e in caso mancassero contattate pure il settore ambiente che ne abbiamo ancora ne avevamo tenuto una scorta preventivamente quindi possiamo andare avanti con la stessa operazione chiaro che la problematica si stia ponendo anche a fronte di quest'estate da record caldo intenso e siccità gli stessi fattori che hanno spinto la regione del Veneto ad adottare una nuova ordinanza in materia di deroga al deflusso minimo vitale e fontane pubbliche demandando la questione ai sindaci noi già preventivamente abbiamo chiuso le fontane pubbliche noi ne abbiamo quasi 140 quindi è sicuramente uno spreco d'acqua importante nei momenti in cui ci sono questi fenomeni di siccità è chiaro che noi consigliamo sempre soprattutto sul fenomeno dell'irrigazione dei giardini di farlo in maniera oculata nelle ore corrette e non eccedere con l'acqua quando questo non serve come magari avviene in altri periodi diciamo di forte disponibilità d'acqua torniamo a Padova per vedere come il comune sta gestendo l'emergenza da zanzare il comune di Padova distribuirà negli up del comune stesso le pastiglie da mettere nei pozzetti dove si formano dei ristani e d'acqua e impedire alle larve di trasformarsi in zanzare è importante sapere che la West Nile in particolare è portata dalla zanzara comune dalla zanzara tigre visti i recenti casi di West Nile l'amministrazione ha deciso di mettere a disposizione gratuitamente dei campioni di prodotto larvicida anti-zanzare le pastiglie verranno distribuite nell'ufficio urpo di via Oberdan del settore ambiente di via Sarpia in quello di infoambiente di via dei Salici e in tutte le sedi di quartiere il sindaco ha adottato un'ordinanza in cui si prescrive ai cittadini di adottare alcuni precisi comportamenti per combattere la diffusione delle zanzare nelle aree private il consiglio è sempre lo stesso state attenti ai ristani d'acqua utilizzate le pastiglie dove servono e utilizzate i repellenti per proteggerli ovviamente sia di giorno che anche di sera il trattamento larvicida al momento è più efficace per impedire che le larve diventino zanzare i trattamenti adulticidi invece hanno effetti temporanei gli interventi adulticidi vanno fatti con più attenzione insieme all'Ulss sono interventi che uccidono non solo le larve ma anche le zanzare adulte vanno fatti con attenzione e concordate con l'Ulss perché il rischio di farli male è andare a uccidere anche gli insetti buoni come ad esempio gli insetti polinatori e le api stiamo vivendo una crisi ambientale lo vediamo e per combattere la crisi ambientale dobbiamo tutelare la biodiversità quindi è sbagliato pensare che con una disinfestazione pesante si possano risolvere i problemi perché magari si risolvono i problemi per qualche settimana ma si rischia di andare a creare un problema più a lungo termine noi come comune quindi stiamo monitorando e interveniamo con accordo con l'Ulss laddove serve il prodotto in compresse deve essere utilizzato secondo la quantità e le modalità descritte in etichetta va inserito all'interno di caditoie tombini griglie pozzetti presenti nelle proprietà private nelle quali si raccolga acqua piovana e va ripetuto ogni due o tre settimane o dopo forti e abbondanti acquazzoni fino a metà settembre o ottobre allora posto che il meteo chiama come si dice in gergo qualche precipitazione la settimana prossima e alcuni meteorologi parlano di un agosto che potrebbe cambiare rotta in modo molto deciso queste sono le precauzioni che le amministrazioni comunali consigliano di prendere per andare a cercare di minimizzare quelli che sono i rischi legati appunto alla presenza di zanzare poi tutto il resto l'abbiamo visto nel nostro telegiornale una situazione molto complessa che colpisce l'agricoltura che colpisce l'allevamento che colpisce la vita quotidiana di ognuno di noi e naturalmente il modo di fare impresa in Veneto adesso cambiamo decisamente argomento parliamo della crisi della caduta del governo e ne parliamo con il nostro direttore Luigi Bacialli che ha preparato un editoriale su questo tema Draghi ha tolto il disturbo ha levato le tende e io ero tra quei tanti italiani che pensavano che la politica gli avrebbe permesso di andare avanti dico la politica perché lui in realtà non è un politico tutto tondo è stato un finanziere è stato un banchiere si è prestato alla politica perché c'era bisogno di un governo di unità nazionale per risolvere grossi problemi e non stiamo ad elencarli perché sappiamo sappiamo benissimo quali sono e tanti italiani una gran parte di italiani aveva auspicato che ci fosse un Draghi bis con o senza i 5 stelle presumibilmente senza dopo tutto quello che è successo dopo i guai combinati dal duo Conte e Rimaio il primo con la scissione il secondo con questa vendetta nei confronti di un governo che non ha mai amato e da cui si è sempre sentito incompreso non è una brutta notizia il fatto che si debba andare a votare anzi lo auspicchiamo da sempre il voto è un diritto sacrosanto in genere si formano governi senza sentire il parere degli elettori quindi al voto al voto come diceva Tottò in un celebre film vota Antonio vota Antonio vota Antonio si voti per chi si ritiene di voler votare sembra che si debba votare il 25 settembre ma non è tanto la questione del poter andare o del non poter andare al voto il problema è quello di una politica becera greve egoista cinica che ancora una volta ha dimostrato di fare i propri interessi e non quelli del paese e non quelli della comunità addirittura Lega e Forza Italia che si coalizzano contro il DL concorrenza un cardine del centrodestra la concorrenza il libero mercato mentre gli imprenditori chiedono che la politica gli aiuti ad andare avanti che non pensi ai sussidi ma che permetta almeno di poter lavorare e sono anni che si parla del cuneo fiscale e sono anni che si parla di abbassare le tasse sono anni che si parla di togliere la burocrazia e non si è fatto nemmeno il Draghi c'è riuscito finora questo ed altro bisognava lasciare fare a Draghi l'ultimo miglio insomma mancavano pochi mesi si poteva finire questa legislatura fargli finire questo mandato e poi andare regolarmente alle elezioni purtroppo ancora una volta con una legge elettorale che non ci consente di scegliere i parlamentari e tutto il problema nasce da qui il fatto che poi i parlamentari i ministri non devono rispondere all'elettorato ma devono rispondere alle segreterie di partito ai loro capattazza ai loro riferimenti quindi una pagina triste di questa storia della Repubblica italiana che probabilmente alle prossime elezioni avrà delle conseguenze perché non credo che gli italiani perdoneranno i partiti che hanno interrotto questo questo cammino di farla di farla franca come sempre il nostro direttore molto lucido sui temi sulle ricadute anche che avrà questa crisi politica ovviamente ne parleremo sia nei nostri telegiornali che nel talk serale di approfondimento di Luigi Bacialli il focus ogni sera alle 21.15 su Rete Veneta adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria voi state con noi perché torniamo fra pochissimo Buongiorno bentornati al Focus TG siamo anche oggi in onda in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto il nostro direttore Luigi Bacialli con il suo editoriale su quello che sta accadendo a Roma con la caduta del governo Draghi ha aperto la pagina politica sentiamo per fare un po' un riassunto delle puntate precedenti le parole arrivate alle agenzie del presidente Mattarella ho il dovere di sottolineare che il periodo che attraversiamo non consente pause negli interventi indispensabili per contrastare gli effetti della crisi economica e sociale e in particolare dell'aumento dell'inflazione che causata soprattutto dal costo dell'energia e dei prodotti alimentari comporta pesanti conseguenze per le famiglie e per le imprese interventi indispensabili dunque per far fronte alle difficoltà economiche e alle loro ricadute sociali soprattutto per quanto riguarda i nostri concittadini in condizioni più deboli indispensabili per contenere gli effetti della guerra della Russia contro l'Ucraina sul piano della sicurezza dell'Europa e del nostro Paese indispensabili per la sempre più necessaria collaborazione a livello europeo e internazionale a queste esigenze si affianca con importanza decisiva quella dell'attuazione nei tempi concordati del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza cui sono condizionati i necessari e consistenti fondi europei di sostegno ne può essere ignorato il dovere di proseguire nell'azione di contrasto alla pandemia che si manifesta tuttora pericolosamente diffusa per queste ragioni mi auguro che pur nell'intensa e a volte acuta dialettica della campagna elettorale vi sia da parte di tutti un contributo costruttivo riguardo gli aspetti che ho indicato nell'interesse superiore dell'Italia parole chiarissime dal Presidente della Repubblica Mattarella parole che arrivano dritte anche sul territorio dove la politica si intreccia con la vita amministrativa stiamo parlando dei sindaci dei primi cittadini di chi poi rappresenta il collo di bottiglia fra la politica e la popolazione di chi si trova spesso a parlare con i cittadini con le persone con chi poi propone i problemi della gente di tutti i giorni sono proprio i sindaci essere i più preoccupati per questa situazione è una situazione complicata che adesso vedrà anche un rallentamento l'appello che faccio l'ulteriore appello dopo quello della responsabilità che evidentemente non c'è stata è quello di far veloci nel senso che è fondamentale ristabilire una linea governativa una stabilità governativa che possa consentire ai sindaci e ai cittadini di affrontare un'estate e soprattutto un inverno che si prevede molto complicato arrivati a questo punto con una maggioranza che si è avvitata su se stessa non resta altro che fare presto andare alle urne e dare pieno mandato a un altro esecutivo così il sindaco di Treviso è presidente Anci Veneto Mario Conte nelle ore del requiem al governo Draghi la responsabilità dice il primo cittadino è tutta del Movimento 5 Stelle e forse lo stesso premier uscente ha accelerato la sua dipartita è stato Draghi stesso a mettere in discussione il suo stesso governo dicendo che non c'era più la stabilità dimettendosi una settimana fa e presentandosi in aula ieri con uno spirito tutt'altro che conciliante ma evidentemente l'obiettivo era quello comunque di confermare le sue dimissioni quindi non saprei dirvi se io fossi stato a Roma perché io sono a Treviso ed è giusto che chi invece ieri era a Roma ci spieghi quelle che sono state le dinamiche e soprattutto quella che sarà la strategia per il futuro Insomma lo stesso Conte uomo forte della Lega in Veneto si tiene lontano dalle dinamiche romane che hanno portato il partito salviniano a staccare la spina più esplicito il sindaco di Zero Branco area centro-sinistra tra i primi firmatari della lettera Pro Draghi bisognava scegliere e scegliere anche con il cuore oltre che con il cervello e quindi la politica doveva riprendersi la dignità che dovrebbe meritare invece lo spettacolo a cui abbiamo assistito è tutt'altro quindi non c'è purtroppo in questo momento una certezza analisi simile ma non del tutto anche per il collega di Conegliano coordinatore di Forza Italia partito che ha registrato due pesanti addi Gelmini prima Renato Brunetta poi è una cosa paradossale che può esistere solo in un paese come il nostro tra l'altro un comune come Conegliano che è passato da 4 milioni e mezzo di euro di investimenti in bilancio 21 milioni proprio grazie alla capacità di intercettare i fondi del PNRR oggi rischia di trovarsi in difficoltà l'uscita del Movimento 5 Stelle ha creato uno scombusolamento di tutto quello che era il sistema della maggioranza e ci troviamo oggi in questa situazione in cui il Premier non aveva più i numeri per avere una maggioranza certa per cui anche Forza Italia e la Lega si sono trovati nella situazione di non avere più una prospettiva di fronte i timori per l'attuazione del PNRR sui territori più che striscianti sono conclamati per la marca si tratta di una partita da oltre mezzo miliardo di euro solo i progetti sociali ammontano 17 milioni con i comuni in attesa di dettagli procedurali per passare all'operatività noi ci auguriamo che possano assolutamente andare avanti perché sono delle necessità del territorio che si vanno poi a collegare alla pianificazione regionale dei piani di zona comprensibili le preoccupazioni dei sindaci che si ritrovano con tutta questa mole di lavoro fatto e da portare a casa e con la necessità di avere un referente poi a Roma con cui parlare di questi argomenti sentiamo invece le reazioni della politica veneta di fronte a quello che è accaduto amareggiato per la fine del governo Draghi il sindaco di Padova Sergio Giordani in una nota ha espresso tutta la sua preoccupazione per l'epilogo dell'esecutivo al paese serviva a stabilità responsabilità e unità per affrontare queste grosse criticità hanno prevalso logiche diverse e oggi sono molto preoccupato e amareggiato ha detto il primo cittadino padovano grande sostenitore di Draghi il partito democratico veneto punta il dito contro Lega e Forza Italia agli artefici di una triste pagina politica l'irresponsabilità del Movimento 5 Stelle che ha innescato questa crisi e le scelte assurde ciniche ieri di Forza Italia e Lega hanno determinato questo esito si aprono una situazione di profonda incertezza che rischia di penalizzare i più deboli e devo sottolineare che il partito democratico fino all'ultimo invece ha sostenuto il governo Draghi con lealtà così come ci veniva chiesto da tutto il Veneto e aggiungo anche che il Veneto è stato tradito La Lega con l'onorevole padovano Alberto Stefani rimpalla le accuse di aver fatto finire l'esecutivo Il governo Draghi è stato vittima delle forzature del partito democratico e di una crisi innescata dal Movimento 5 Stelle La Lega ha chiesto responsabilmente un nuovo governo una nuova agenda politica che ponesse al centro l'autonomia la pace fiscale e la flat tax c'è stato risposto di no ora si torni nel più breve tempo possibile alle elezioni e si dia parola agli italiani Subito al voto il commento del senatore Veneto Luca De Carlo di Fratelli d'Italia Veloci al voto per dare a questa nazione un governo serio coeso e che faccia gli interessi degli italiani quello che abbiamo visto ieri è stato l'epilogo di un governo che metteva insieme cose che assieme non potevano stare dal PD alla Lega dai 5 Stelle a Forza Italia l'Italia ha bisogno di affrontare un momento difficile come quello che vedremo da qui in avanti fino in ottuno con un governo serio e coeso che dia risposte pertanto al voto subito si voti la prima settimana di ottobre perché poi tempo di formare il governo ci sarà da affrontare la grande sfida della crisi energetica della crisi alimentare ma anche la finanziaria è stata anticipata questa richiesta come abbiamo sentito di De Carlo e si andrà il 25 settembre abbiamo sentito i politici abbiamo sentito gli amministratori sentiamo anche i cittadini secondo lei quindi Draghi era la persona giusta era la persona giusta sì ha rappresentato bene l'Italia fino ad oggi anche per quello che ha fatto nel corso della sua carriera era una persona di pieno rispetto si è dimesso perché tra virgolette è stato mandato via è stato buttato fuori ma non è la soluzione del problema credo che Draghi fosse stata una grande cosa che aveva per l'Italia veramente cioè aver perso un'occasione enorme perdere una persona come Draghi non so chi ci sarà poi io so solo che ci sono tanti problemi di risolverle dovrebbero essere le persone che abbiamo delegato risolverle una cosa assurda perché perché l'Italia ha bisogno di efficienza secondo me hanno sbagliato tutto i politici hanno voluto far valere la loro forza e hanno mandato via un presidente veramente in gamba a livello di stand internazionale e riconosciuto in tutte le sedi ecco il problema adesso sarà ricreare un governo fattivo che possa essere sorretto da una maggioranza diciamo veramente coese e forte in modo tale da poter affrontare dopo l'estate le varie crisi che si presentano energetica economica di lavoro e forse Draghi secondo la mia opinione personale era la persona più indicata e di assoluta moralità e tecnicalità preferisco non commentare qui in terra veneta ma mi sembra un po' amaro bravo salvini bravo ironico i lombardi non ci sanno fare di a zaia che si impegni un po' allora la voce dei cittadini l'abbiamo sentita avevamo sentito in precedenza la politica abbiamo già capito come la pensano i sindaci il terremoto creato dallo scioglimento della Camera della coduta del governo Draghi ha tantissime ripercussioni prima fra tutte quella sull'imprenditoria del Veneto sentiamo quali sono le richieste le piccole e medie imprese padovane guardano con preoccupazione alla fine del governo Draghi il presidente di Confapi Padova attacca duramente le scelte dei politici che nell'aula del senato hanno fatto cadere l'esecutivo mettendo a rischio anche la salute del tessuto imprenditoriale la cui ripresa è già segnata profondamente dai rincari di energia e materie prime non riusciamo a capire queste scelte e soprattutto io non riesco a capire come non si possa in questo momento sto parlando dei parlamentari capire che la nazione ha bisogno d'altro e quindi mettere da parte per un pochino tutti i desideri o le pretese o le aspirazioni di aumento di voti perché di questo purtroppo si sta parlando di sicuro come cittadino io una cosa l'ho capita ho capito chi non voterò mai in futuro saranno i cittadini a giudicare l'operato della politica confida Valerio chi vive nella realtà scusate il bisticcio sa di che cosa ci sarebbe bisogno chi vive in un mondo che è completamente fuori da quello della realtà che evidentemente è quello nel quale stanno i nostri parlamentari attuali queste cose non le capisce e questo purtroppo ha creato un mondo di autoreferenzialità da parte dei politici che è incomprensibile alle persone che fanno la vita di tutti i giorni La speranza per Confapi è che in questi mesi che precedono il voto il governo porti avanti le iniziative finora intraprese Più danni di quelli che sono stati fatti io credo che fortunatamente almeno fino alle elezioni non potranno essercene di sicuro io mi chiedo cosa andranno a dire ai loro familiari i parlamentari che hanno fatto scelte che evidentemente erano legate da interessi di bottega o che hanno dovuto subire per interessi di bottega dei loro superiori perché noi siamo veneti e molto spesso si sentiranno chiedere ma cosa ha Ghetto fatto? Allora non solo gruppi di cittadini non solo la politica non solo l'imprenditoria anche intere aree si chiedono che cosa succederà adesso per esempio la montagna veneta Una grande preoccupazione da un lato e delusione dall'altra penso che ci sia una grande responsabilità da parte della politica italiana che mai penso come in questo momento doveva aprire una crisi di governo Sconcertano e sconfortano le dimissioni di Mario Draghi per le conseguenze potenzialmente funeste che la crisi di governo potrebbe far scaturire nel bellunese la montagna veneta potrebbe infatti risultare tra i territori più colpiti dal cambio di rotta governativo una provincia le cui difficoltà di gestione sono intrinseche nella morfologia territoriale il costo comparativi infrastrutturali per le Olimpiadi del 2026 e la necessità di rilanciare la propria economia e riqualificare il territorio forte preoccupazione per il destino della legge quadro della montagna presentata dal ministro Gelmini a Belluno proprio il mese scorso e sulla quale il deputato Roger De Mene che esprime massima preoccupazione specialmente perché le conseguenze potrebbero ricadere proprio sulle fasce più deboli e il precariato il territorio di montagna è quello che rischia di più proprio per questi appuntamenti che noi abbiamo cantieri da mettere da far partire difficoltà burocratiche abbiamo il problema del comelico la siccità la sicurezza le ripercussioni vedremo nei prossimi mesi ma penso che siano forti perché in ballo ci sono troppe questioni dalla legge sulla montagna al PNRR alle Olimpiadi alla revisione del testo unico degli enti locali solo per ricordarne alcuni senza contare che il bellunese perde due cariche importantissime dell'esecutivo Draghi nelle figure del ministro dei rapporti con il Parlamento Federico D'Inca e il ministro dell'economia e finanze Daniele Franco avere due ministri molto importanti così che verranno a mancare sicuramente ne pagheremo e poi avremo cosa una prospettiva che con il calo dei numeri dei collegi avremo meno deputati e meno senatori nel territorio e sono quelli che raccogliono le distanze che poi le portano in Parlamento o al Senato erano dei riferimenti e ogni qual volta noi avevamo delle problematiche potevamo esporle e avevamo a Roma chi ci poteva rappresentare e poteva seguirle anche in prima persona questo ovviamente non lo avremo più e come dicevo prima le ripercussioni non potranno che essere negative è passato solo un giorno o poco o poco meno dall'esciuglimento della Camera e dalla caduta del governo Draghi e già queste sono le tantissime importantissime reazioni quindi da qui in avanti ne avremo di sicuro da raccontare qui al Focus TG cambiamo decisamente argomento andiamo sul versante sanitario sentite questa segnalazione che riguarda l'Ulss 7 Pedemontana niente da fare il telefono continua a squillare ma nessuno dell'Ulss 7 risponde al signor Walter che cerca disperatamente di fissare una visita psicologica al figlio la sua storia la sua odissea ve l'avevamo già raccontata qualche giorno fa ebbene lui ha insistito ma se è possibile le cose sembrano essere andate addirittura peggio il mio figlio chiedeva una visita psicologica e non mi hanno mai chiamato i numeri non rispondono mi dà un numero mi dà un altro e adesso mia moglie è andata dal medico di condotta e gli ha detto di andare al CUP stamattina è andata al CUP il CUP gli ha dato due numeri di questi due numeri non risponde nessuno abbiamo provato un sacco di volte non risponde nessuno adesso oggi andrà di nuovo dal medico curante ma questo non è il sistema qua non rispondono niente è stato il CUP a darmi questi numeri è quello che non capisco non capisco niente eppure nonostante non sia ancora venuto a capo della situazione contaminata dalla disorganizzazione dell'Ulse 7 come ci racconta lui stesso il signor Walter insiste e chiede rispetto chiede ciò che gli spetta lasciar perdere non è giusto perché se uno ha un tumore se uno ha una malattia più grave stanno prendendo in giro la gente io ho anche detto che andavo personalmente dal dottor Bramessa se vogliono riprendermi io vado anche dal dottor Bramessa a suonare il campanello perché guardi non è giusto una cosa del genere anche in questo caso i nostri microfoni restano a disposizione di tutti vediamo invece la complessa situazione la complessa vicenda legata ai tamponi rapidi ritengo di aver operato nello svolgimento della mia attività con il massimo scrupolo e nell'esclusivo interesse della collettività queste le parole affidate ad una nota del microbiologo Roberto Rigoli dopo aver ricevuto la notifica della richiesta di rinvio a giudizio da parte del PM di Padova Benedetto Maglio Roberti per i cosiddetti tamponi rapidi sperimentati tra la prima e la seconda ondata Covid la procura ha chiesto il rinvio a giudizio anche per l'ex direttore generale di azienda Zero Patrizia Simionato in concorso tra loro i due sarebbero responsabili di falsità ideologica in atti pubblici commessa da pubblico ufficiale e turbativa nel procedimento di scelta del contraente Rigoli avrebbe confermato di aver effettuato l'iter per verificare l'idoneità di quei test che azienda Zero poi comprò in due tranche senza gara quasi 500.000 kit per un costo di più di 2 milioni di euro stando però a quanto ricostruito dagli inquirenti l'idoneità necessaria non era stata verificata il che avrebbe penalizzato le altre ditte che avevano presentato offerte come risulta dalla documentazione amministrativa relativa al bando di gara e da molti altri elementi di indagini raccolti spiega Rigoli nella procedura per l'acquisto dei test rapidi mi era stata domandata una verifica documentale della corrispondenza tra le caratteristiche tecniche richieste dall'avviso pubblico e le schede tecniche della casa produttrice effettuavamo aggiunge ancora Rigoli poi anche una valutazione sull'idoneità tecnica complessiva del kit che conteneva il test rapido per il dottore non era invece stata richiesta un'autonoma valutazione scientifica sull'attendibilità delle specifiche tecniche dichiarate dalla casa produttrice del test che sottolinea Rigoli sarebbe stata impossibile da svolgere poiché da un lato avrebbe richiesto uno studio dai tempi incompatibili con quelli ristrettissimi dettati dall'emergenza e dall'altro i prodotti erano stati oggetti di controllo e certificazione da parte degli enti competenti Rigoli confide infine che già all'udienza preliminare sia possibile chiarire ogni aspetto della vicenda e appurare la correttezza del suo operato è l'avvocato Alessandro Moscatelli legale dell'ex DG e Patrizia Simionato ad intervenire sulla vicenda la dottoressa Simionato respinge con forza le accuse avanzate dalla procura emerge già oggi senza necessità di un processo come la stessa si sia sempre comportata con i soli obiettivi di tutelare la salute pubblica e di preservare gli interessi della pubblica amministrazione aggiunge l'avvocato secondo il quale la dottoressa Simionato non ha commesso alcun reato questo perché non spettava la dottoressa né ad altri indagati verificare le caratteristiche del tampone rapido distribuito ed usato in 120 paesi in tutto il mondo anche attraverso il Global Fund all'Organizzazione Mondiale della Sanità conclude l'avvocato quanto accaduto sta avendo ripercussioni anche sulla scena politica veneta con i consiglieri regionali del Partito Democratico che dicono la richiesta della procura di processare il dottor Rigoli è di una gravità assoluta il rapporto di fiducia tra cittadini la sanità regionale e i suoi vertici politici è fortemente messo in discussione nei prossimi giorni concludono i consiglieri chiederemo tutta la documentazione e chiederemo l'avvio di un'inchiesta interna per capire cosa sia avvenuto cambiamo ancora argomento vediamo altre notizie che riguardano comunque il Veneto c'è una piuttosto particolare che riguarda il calo degli sfratti gli sfratti sono calati perché inizialmente sono calate le locazioni ahimè i piccoli proprietari scottati da precedenti esperienze negative fanno sempre più fatica ad affidarsi con fiducia a nuove locazioni altro che sfratti in calo i dati incrociati tra associazioni piccole proprietari e sindacato inquilini segna una profonda diffidenza verso la giustizia italiana perché adentrarsi nel vortice di una causa per liberare l'abitazione da un inquilino può diventare un'odissea oltre che una vera e propria emorragia finanziaria cercano anche proprio di evitare e limitare al minimo le perdite purtroppo i piccoli proprietari oggi sono ampiamente vessati dalla tassazione e poi da questi rischi rilevanti legati al mancato pagamento alla crescita sempre di più di pagamento di spese condominali per conto dei propri conduttori e questo per il proprietario comporta un esborso vero e proprio quindi non più solo un mancato guadagno ma una spesa che per la maggior parte dei casi poi è veramente difficile da recuperare ecco spiegato anche perché il mercato degli affitti sia in contrazione in una forbice che vede un leggero aumento per gli affitti brevi per non residenti oppure locazioni con mensilità molto elevate per bilanciare gli inevitabili problemi che arriveranno quando proprietario inquilino non andranno più d'accordo dall'altra parte appunto ci sono situazioni di famiglie che non riescono a reperire un alloggio e questa è l'altra faccia della medaglia con famiglie anche con buon reddito che non riescono a trovare casa una risposta a questa situazione per il sindacato degli inquilini torna ad essere l'edilizia popolare le case popolare le case popolare vanno a dare risposte a tutta una serie di altre situazioni come ad esempio appunto a dei proprietari che hanno una casa affittata ad un inquilino che non può pagare l'affitto e che non vedono soluzione perché questo inquilino non riesce ad essere sfrattato perché appunto non ci sono case popolare non ci sono alloggi dove mettere queste famiglie sottolineo che la casa è un diritto costituzionale e che quindi deve essere assolutamente tutelato una situazione che secondo il sindacato viene però poco seguita dalla politica devono essere i politici a capire che il mondo della casa e il mondo dell'affitto è stato per troppo tempo dimenticato e che quindi deve essere invece considerato come centrale dal momento che la casa è centrale per lo sviluppo delle persone chiudiamo in bellezza con le celebrazioni per 200 anni delle grotte di Oliero sabato verrà messa in scena questa passeggiata letteraria intitolata appunto Spelonche racconti di grotta che si inserirà all'interno di questo grandissimo percorso in occasione dei 200 anni dalla scoperta delle grotte di Oliero ed è così che natura e letteratura si intrecciano in una trama di parole e suggestioni un percorso che renderà protagoniste le grotte attraverso la loro storia nel tempo si comincia appunto con la nascita di Zeus per poi approdare alla caverna di Platone quindi tutto il concetto di ragione contrapposto all'ignoranza si passerà poi all'Orlando Furioso nel momento in cui Orlando scopre di essere tradito dall'amata angelica come d'oro sempre all'interno della grotta e quindi subentra il tema amoroso e si passerà poi infine a Montale appunto se non erro con grotta come senso di appartenenza come confine da non superare come stato d'animo in cui in cui star bene sentirsi parte di qualcosa di più grande una delle tante meraviglie di questo nostro bellissimo Veneto una notizia prima di chiudere i sindaci di Bassano e di Montebelluna hanno dichiarato che domani sarà giorno di lutto cittadino appunto per le due città in concomitanza con la celebrazione in suffraggio di Emanuela Piran originaria appunto di Bassano e Gianmarco Gallina scomparsi nella tragedia della Marmolada i funerali si sono già svolti in forma privata a Canazzei amici e concittadini hanno deciso di salutare queste due sfortunate persone con una celebrazione e naturalmente con le bandiere a mezz'asta prima di salutarvi vogliamo farvi vedere con la regia di Renzo Rigone ed Edoardo Alberti quelli che sono i dati dell'emergenza Covid 7.484 nuove positività con i tamponi effettuati ieri 105.622 persone attualmente positive in Veneto la situazione degli ospedali non è cambiata di molto c'è un lieve calo per quanto riguarda l'area non critica resta sostanzialmente invariata la terapia intensiva insomma una situazione che si sta un po' frenando rispetto a quello che si era visto negli giorni scorsi forse il picco delle ultime settimane potrebbe essere rallentato ve lo racconteremo ogni giorno qui nel Focus di Giro noi ringraziamo i colleghi che ci hanno permesso di portare nelle vostre case tutte le ultime notizie del Veneto ringraziamo la regia ringraziamo voi per essere stati con noi vi ricordiamo questa sera TG Bassano e TG Vicenza con tutte le notizie dal territorio e vi auguriamo un buon pomeriggio a presto a presto Grazie a tutti.